La Toscana riapre le agende per le prime dosi Pfizer. Si sono infatti riaperte le prenotazioni per il vaccino anti-Covid per le 6.900 persone che si erano già prenotate e a cui sono stati annullati gli appuntamenti per l'improvvisa riduzione delle forniture. Coloro che avevano già prenotato avranno dunque una priorità di 48 ore, passate le quali le prenotazioni saranno riaperte anche agli altri operatori sanitari e sociosanitari degli ospedali e delle RSA, medici e pediatri di famiglia, sanità territoriale pubblica e privato accreditato sempre che abbiano già fatto la preadesione. Si tratta di tutte le categorie coinvolte nella fase 1. L'ultima fornitura di 31.590 dosi di vaccino di produzione Pfizer-BioNTech è stata infatti consegnata lo scorso 2 febbraio, consegna che ha consentito di riaprire le agende appunto della fase 1, mentre continuano regolarmente le somministrazioni dei richiami. Mentre prosegue la fase 1 della campagna vaccinale, la regione è anche al lavoro per avviare le fasi successive che dovrebbero partire a metà febbraio. La vaccinazione degli over 80 con Pfizer-BioNTech dovrebbe essere fatta secondo quanto si apprende da fonti regionali negli studi dei medici di medicina generale, modalità che però dipenderanno dalla firma dell'accordo nazionale con la categoria. Sempre a metà febbraio partirà poi anche la campagna vaccinale con AstraZeneca. I destinatari tra i 18 e 55 anni saranno i lavoratori della scuola, docenti e non docenti, forze armate e di polizia, personale carcerario, detenuti e lavoratori di altri servizi essenziali. In questo caso la somministrazione dovrebbe avvenire nei 42 punti vaccinali già individuati sul territorio regionale.